Ciao fanciulli e fanciulli, eccoci di nuovo qua insieme per le previsioni della settimana dal 4 al 10 novembre. Fai la tua scelta fra avventurina verde per il primo mazzo di carte, mentre diamo l'ametista e o il quarzo rosa per il secondo mazzo. Andiamo a vedere cosa ti accarrà durante settimana prossima. Ciao avventurina verde, andiamo a vedere la tua settimana dal 4 al 10 novembre. Partiamo dagli oracoli volume 1, se vuoi questo mazzo di carte ti lascio il link qui giù nell'info box qui sotto, nell'info del video. Andiamo a vedere cosa accadrà con loro che hanno scelto l'avventurina verde nella settimana dal 4 al 10 novembre. Andiamo a vedere cosa hanno da dire. Bella, 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 bella. Bellissima carta, la riparazione. Qui ci sono qui tutti i fili, c'è un tagli e cusci, insomma. Qui si ripara qualcosa, una situazione, un rapporto, ma anche perché no uno stato d'animo. Quindi qui c'è un qualcosa che viene aggiustato, sistemato, riparato, messo a posto. Quindi posso pensare ad una chiamata chiarificatrice, posso pensare ad un incontro, posso pensare appunto ad un far pace con qualcuno, a un ritrovarsi con qualcuno. Va bene? Sistemare un rapporto, ma anche una situazione. Se c'è un qualcosa che sta aspettando, ma anche se non aspetta, mi viene da dire, un qualcosa che insomma, una situazione ti fa un po'. Qui tu la ripari, tu la metti a posto. Questa è una carta bellissima. Una carta felice che parla appunto di cose che si, di cose che si sistemano. Fammi un po' vedere. Dal 4 al 10 novembre. Ricordati che ho pubblicato sul canale l'oroscopo per il mese di novembre, per tutti i segni zodiacali, con l'astrologia. Abbiamo visto il cielo del mese, ma anche le carte. Quindi ti lascio qui, appena finirà questo video in fondo, ti compariranno tutti dei riquadrati. Insomma, dei video che puoi cliccare e puoi andarteli a vedere. Va bene? E poi metti tutto insieme. Allora, vediamo per questa settimana di novembre. Per coloro che hanno scelto Avventorina Verde. Abbiamo visto, c'è un qualcosa che si va a sistemare, ad aggiustare. Il 3 di spade, vedi? Il re di bastoni, che è uscito a testa all'ingiù. E gli amanti. Fammi vedere, ne voglio altre due. Ok, ne sono uscita. La regina di denari e i nove di coppe. Fammi vedere. Questa voleva uscire, mi è rimasta un po' sbilenca. E la faccio. Ho capito. Ma, guarda. Ma qui c'è un qualcosa, qui lo ribadiscono. Fammi vedere. Scusa un attimo. Voglio vedere anche un'altra cosa. Voglio chiedere. Poi guardiamo anche le Sibille, sono qui che vogliono parlare anche loro. Che cos'è quel 3 di spade? Ok. Cos'è quel 3 di spade? Esatto. E quel re a capo all'ingiù? Chi è? Perché c'è quel re a testa all'ingiù? Ma, allora, guarda. Qui c'è un qualcosa, mi pare che ci stiamo dicendo queste carte, c'è un qualcosa di mancante, un qualcosa che manca. Per essere felici, mi viene da dire. Qui c'è una mancanza di un qualche tipo. Mancanza che potrebbe arrivare da sto tizio qua. O magari è il tizio che ha una mancanza o che manca addirittura. Quindi qui c'è la mancanza di questo personaggio o questo personaggio maschile che è latitante o che comunque dà delle mancanze a te che tu sta ascoltando Avventurina Verde. Ora, qui si può trattare, siamo in una stesa settimanale, non siamo in una stesa dove chiede il ritorno del tuo ex di 45 miliardi d'anni fa, ok? Quindi semplicemente questo tizio potrebbe essere il muratore che doveva venire a fatti dei lavori ma non si è più fatto vivo. L'idraulico che doveva venire a cambiarti i tubi ma non l'ha fatto. È chiaro? Quindi un personaggio che avrebbe dovuto, che dovrebbe fare qualcosa, vedete di cosa ti parla, ma non ha fatto. Ok? Quindi di questo stanno parlando. Magari avevi fissato con un amico perché potrebbe essere anche un amico che avrebbe dovuto chiamarti. Sai quando si dice? Ci si sente, ti chiamo, ti fa sapere invece, addio. Ecco, semplicemente questo. Ora, qui durante questa settimana, qui qualcosa succede. Dico succede, non dico lui farà, perché lui a te sta lì in giù. Quindi la vedo un po' dura che sia questo personaggio che alza il telefono, che comunque faccia, che intraprenda un'azione di un qualche tipo. Ah, mi metto l'oio, ci posso stare, capito? Che faccia un'azione di un qualche tipo riparatoria. Qui potresti essere te che tu mi stai ascoltando, uomo o donna che tu sia, potresti essere te che tu mi stai ascoltando, che tu intraprendi un'azione di un qualche tipo. Ok? Una volta intrapresa questa azione di un qualche tipo, tu vedrai che qui un miglioramento di situazione la viene. È chiaro. Quindi, qui le carte, non voglio dire che ti esortano a fare un qualcosa, ma è come se mi dicessero che qui è più probabile che tu sia te a muovere un passo per smuovere un po' queste impasse, questa situazione un po' così. Qui c'è un allontanamento di un qualche tipo con qualcuno. Vedite di che situazione ti stanno parlando. Qui, per esempio, mettendoci un po' di fantasia, io posso vedere anche una situazione che ha in ballo con un uomo. Cioè, qui c'è una coppia. Chiaro? Ok, guardami sonno. Va bene? Una situazione in ballo con questo personaggio, personaggio che potrebbe essere una persona sposata, o avere comunque un'altra donna da qualche altra parte. Se a te queste carte ti parlano di una situazione che ha in ballo con qualcuno per problemi, per un motivo di cuore, insomma, di affetti. Ma potrebbe, come ti ho detto, anche essere semplicemente una persona che ti deve fare dei lavori, che ti deve fare qualcosa e però è sparito, non ti ha più fatto nulla. Ecco, capito? Però, siccome qui, durante questa settimana, fanno vedere una soddisfazione per te, una situazione che trionfa e migliora, che va a ripararsi, che va ad aggiustarsi, a sistemarsi, cioè qui c'ho queste due carte, c'ho la riparazione di qua, è uno splendido nove di coppe di là. Quindi qui c'è una situazione che si va a sistemare, aggiustare, riparare. Qui c'ho una comunicazione. Se hai, per esempio, un esame di riparazione, qui tu lo superi. Capito? Insomma, qui c'è belle, belle, belle carte, cioè belle carte, belle carte, ma si arriva da un 3D spade, re capovolto. Quindi qui un problema c'è o c'è stato un qualcosa che non andava per il verso giusto, magari il lavoro non andava bene o ti mancava un po' il lavoro, il lavoro era un po' peggiorato, rallentato, capito? Un qualcosa a cui se tieni molto, tenevi molto, sicuramente qui ci si dà da fare, eccetera. Ecco, qui tu lo sistemi. Quindi le cose tornano ad andare come devono andare. Tant'è che qui c'ho questa soddisfazione. Chiaro? Vediamo le sibille. Il gossip, come prima carta, dove lo metto? Mettiamola qua per farvelo vedere. Avventurina verde, dal 4 al 10 novembre. Ricordati l'oroscopo dei segni zodiacali che ho già messo per il mese di novembre. Lo trovi in fondo a questo video, va bene? La sorpresa. Eccola là. Gossip, la sorpresa, la visita. C'è, più chiare di così. Quindi qui c'è una comunicazione, la speranza, vedi, hope. ma questa già me la diceva, già me la diceva tutta. Fammi vedere. Capito? Quindi qui c'è la fedeltà. Perfetto. ok? Quindi qui già questa carta, come vi dico sempre, già ci aveva preannunciato tutto il resto appreso. Però noi vogliamo vedere nei dettagli, nei particolari, vero bambine? Ecco. Però, insomma, quindi qui c'è una comunicazione con questo gossip, quindi qualcosa che vieni a sapere dalle carte che vedo si può trattare di una comunicazione. Magari tu, nei giorni precedenti, già hai fatto qualcosa, hai smosso qualcosa, chissà. Poi mi farai sapere nei commenti. Fatto sta che qui si viene a sapere un qualche cosa a sorpresa. Vedi? Qui c'è questa visita a sorpresa. Quindi aspettati questa novità, ok? Questa sorpresa o qualcosa che proprio se non ti aspetti che ti darà sicuramente nuovamente la speranza in un qualcosa di più stabile, di più regolare. Quindi qui può essere veramente anche un rapporto di amanti nel vero senso della parola che si va sistemando. qui ci deve essere stata una persona che è latitante, cioè che non si è fatta sentire, non si è fatta viva, ok? Che invece durante questa settimana tu risenti. Ora, a un'ordine cronaca, io non credo che questo re a testa all'ingiù faccia un passo. Io credo che lui sia latitante perché gli a testa all'ingiù. Però qui o di riffa o di raffa o in un modo o in un altro che io non so qui c'è questa riparazione di questo rapporto. Quindi o tu vieni a sapere qualcosa di lui, capisci? Oppure siccome c'è questa visita sorpresa magari tu te lo trovi davanti da qualche parte. Cioè, capirlo, ci sta anche quello. Però prima di questo incontro qui c'è questa comunicazione. Quindi o è qualcun altro che parla a lui, a lei, che parla a uno di voi due, capisce? Ti voglio dire che vi fa incontrare, non lo so, lì a star lì troppo a far pensieri, è troppo, siamo troppi, non si può fare dei dettagli così. Però, capito, un qualcosa di questo tipo avventurina verde. Qui c'è una sorpresa e una riparazione, una situazione che si va sistemando, una gioia, sicuramente, una grande gioia, una grande soddisfazione. Oltre a questo, durante questa settimana ci sono comunicazioni in genere, quindi sicuramente qualche comunicazione importante che arriva, una bellissima sorpresa l'abbiamo visto, qui magari qualcuno viene a trovarti, oltre a quello che ti ho detto di questo personaggio. Una vittoria di un qualche tipo, un esame che tu superi sicuramente a maggior ragione se tu hai un esame che ti avevi saltato o qualcosa di questo tipo. Cos'altro? Me la vedo con mente. Sì, una vittoria di un qualche tipo. Ci potrebbe essere stato anche un amico che magari ti ha dato una mano per trovare lavoro o per fare qualsiasi altra cosa. Insomma, qui ci sono anche dei denari che arrivano. Lo studio, ti vedo insieme ad altre persone a festeggiare, magari tu esci, tu va per locali, quindi anche il divertimento. sicuramente. Vediamo, avventurina verde e segni zodiacali. Fammi un po' vedere. Ricordati di guardarti l'oroscopo e sicuramente ti sarà dai oto. Con quali segni zodiacali vedete l'avventurina verde? con il capricorno, con il capricorno, con il toro, la bilancia, con il sagittario, questo niente. Vediamo se ce ne danno altri. Avventurina verde, quali segni zodiacali avranno a che fare con lei? Vediamo durante la settimana. con l'acquario, con la diete, questo cos'è? Con il leone, il toro, viene confermato segno del toro, vediamo se me ne danno un altro, se no ci ci fermiamo. Ok, con la bilancia, l'abbiamo vista, la bilancia, sì, toro e bilancia vengono confermate. Basta, mi fermo. Allora, toro, bilancia, leone, sagittario, acquario, ariete e capricorno, i segni più evidenti. Qui mi vedo i pesci, non ve l'ho detto i pesci, perché? Non ve l'ho detto i pesci, vedi? I pesciolini o me fanno, svizzano, me languille, ragazzi, aggiungiamo il segno dei pesci. Questi segni più evidenti, però, come dicevo, se non ritrovi il tuo segno, non importa, quello che ti deve far fede, in cui ti devi riconoscere, è la stesa. Va bene, avventurina verde? Adesso, se ascolti il mio consiglio, ti vai a sentire anche l'altro mazzetto, perché potrebbe essere idoneo per te, forse anche più di questo che hai scelto. Va bene? Allora, vediamo la settimana del quarzo rosa e della metista, partiamo dagli oracoli volume 1, se vuoi questo mazzo di carte, ti lascio le informazioni giù nella descrizione di questo video. Allora, andiamo a vedere la settimana dal 4 al 10 di novembre per il quarzo rosa e la metista. Andiamo a vedere cosa accadrà a queste persone. Ok, la partenza. Ah ah, beh, qui mi sembra evidente, c'è sta ragazza che saluta qualcuno, è sul treno, che è in partenza, che sta partendo. Allora, solitamente questa è una carta che ci parla appunto, no, di partenza, cioè dell'andare da qualche parte, da qualche parte. Qui si parte, non si arriva, quindi si va. Quindi, letteralmente, potresti fare un viaggio in questa settimana recarti da qualche parte, ma ovviamente quando uno va da qualche parte, quando uno parte, lascia qualcosa, qualcuno dietro. qui non so se si vede, sta salutando una persona. Quindi, un viaggio letteralmente nel vero senso della parola, ma anche un allontanarsi da qualcuno o da qualcosa, da una situazione perché non va più, da una situazione perché se ne è scelta un'altra, ci si allontana, che ne so io. Qui si parte, quindi ci lasciamo qualcosa alle spalle. Questa è la prima cosa di cui ci parlano queste carte. ma vediamo lor signori i tarocchi. Poi vediamo anche le sibille, ci sono anche loro. Io nel frattempo ti invito a guardarti anche l'oroscopo che ho già pubblicato per il mese di novembre e per tutti i segni zodiacali, va bene? Quindi guardati il tuo segno, guardati l'ascendente, la luna anche se la conosci e poi metti tutto insieme, insomma, va bene? Allora, dal 4 al 10 di novembre per il quarzo rosa e l'ametista. Cosa accadrà a queste persone? Fammi vedere. Prima carta, il 3, il 3 di bastoni, la forza, ebbè, accidenti, sì, vabbè, e nel taglio c'è la temperanza. Allora, queste sono carte splendide, sono carte di azione, di impresa, qui si intraprende qualcosa, ma si intraprende, si fa un qualcosa con ardore, con desiderio, con passione, con la volontà. Quindi qui non c'è nulla che piove dal cielo. Al di là dell'altro mazzetto in cui le carte ci hanno parlato di sorpresa, quindi un qualcosa che ci sorprende, qui no, qui è studiato, è programmato, qui si programma un qualcosa, ok, e si fa. Non escludo, ci può essere chi di voi può fare un viaggio per motivi di divertimento, ma qui potrebbe pure essere qualcuno che viaggia, che va da qualche parte per motivi di lavoro, magari proprio ti trasferisci per lavoro da qualche parte, oppure vai da qualche parte a un viaggio di lavoro, come si dice, poi tu torna a casa, ma tu fa un viaggio di lavoro, capito? Insomma, anche cose di questo senore. Qui ci sono molte comunicazioni, quindi sicuramente una qualche novità, guarda, il re di spade, qualsorosa ametista, viaggio sicuramente quello si è, guarda, il tre di denari, il nove di denari, il cavallo di denari, cioè, ascolta, ora qui sono volate tutte queste altre, io le voglio, ma loro le continuano a chiacchierare, e vabbè. ok? Ora, qui si fa sicuramente il due di coppe. Guarda, non escludo, appunto, come ti stavo dicendo all'inizio, un viaggio con qualcuno, quindi insieme a qualcuno per motivi di lavoro o per motivi affettivi, quindi per motivi tuoi di divertimento, come si dice, va bene? Quindi, qui c'è anche quello, c'è proprio questo viaggio, questo recarsi da qualche parte. Ci sono sicuramente dei denari che arrivano, quindi o vieni pagato per un servizio che avevi già fatto o semplicemente, ecco, tu fai questo viaggio per motivi di lavoro, di guadagno, insomma, magari devi andare per, come si dice, no? Vendi qualcosa, ecco. Oltre a questo, quindi qui, un discorso lavorativo assolutamente bello, positivo, quindi se lavori le cose ti vanno bene, se non lavori lo trovi, ma credo che tu lavori da queste carte. Comunque, ok, qui c'è anche un accordo di un qualche tipo, non voglio dire un contratto, però diciamo che qui ci si trova bene con qualcuno, c'è molta concordia, c'è molta affinità, c'è un trovarsi bene con qualcuno. a dire il vero qui c'è anche un personaggio abbastanza importante che intraprende qualcosa con te, potrebbe essere un capo, un responsabile con cui ti dovrai relazionare, va bene, con cui dovrai fare un qualche cosa, insomma, io vedo che qui tu intraprendi qualcosa, tu sei su una buona strada, guardati l'oroscopo dei segni zodiali, mi raccomando, e vedi cosa ti dico anche lì. io qui vedo tante belle cose, ti vedo sicuramente in gruppo, quindi sicuramente tu potresti o uscire in gruppo nel senso proprio, no, uscire con degli amici, eccetera, ma anche una riunione di lavoro, per esempio, ok, che tu puoi fare, la partenza l'abbiamo vista, i denari l'abbiamo visti, ci sono anche delle nuove conoscenze che tu puoi fare, fammi vedere, guarda, questa te la vivo in più, in più internos, quindi prendila proprio così, come chiacchiera da bar, non so perché, ma qui mi parlano anche di un bambino piccolo, piccolo, o più di uno, perché non so, ma un bambino piccolo è della nonna o del nonno, però, boh, o forse tu porti i bambini alla nonna e tu va a fare un viaggio, e ne so io, insomma, guarda, è una cosa così particolare, fammi sapere, o magari tu sei te la nonna, non so, insomma, fammi sapere, va bene? Andiamo a vedere, quarzo rosa ametista per la settimana dal 4 al 10, guarda, infatti, non si smentisca mai le carte, mai, ok, 4 al 10, la, gli amanti, la forza e l'asso, ok, qui c'è anche un incontro, non so se tu devi fare un viaggio per andare da questa persona, qui c'è una riunione di lavoro importante, poi magari non è di lavoro, una riunione, ma insomma, riunione, solitamente è di lavoro, e quello che vedo, fanno vedere proprio questa, magari forse proprio un intermediario, comunque, fanno vedere proprio questa, questa tavolata di persone, questa scena con più persone, sì, magari tu sei te in coppia con qualcuno, che ti riunisci con tutta sta gente, comunque, comunque, il nocciolo quello più è questa partenza, qui si parte verso nuovi lidi, si va da qualche parte, e magari forse proprio insieme a qualcuno, si lascia qualcuno, o qualcosa dietro, e ci si lega verso qualche cosa, comunque, settimana molto positiva, anche molto, come si chiama quando si fa, settimana molto fruttuosa, molto positiva anche da quel punto di vista lì, qui mi spicca questo personaggio, tu l'ha vista anche te, questo re di spade, uomo, donna che tu sia, anche con questo signore, ti dovrei relazionare durante questa settimana, ok, io vedo un personaggio importante, o comunque che avrà un discreto ruolo, in tutto sta ambarada, capito, che sia il tuo capo, che sia il tuo avvocato, che sia il tuo compagno, ma è un personaggio, importante, fra virgolette, va bene, per la tua, per la tua settimana, qui c'è il mio cane, che russa come un trattore, ma non importa, ok, denari, denari che arrivano, qui si intraprendono qualche cosa, insieme a qualcun altro, quindi io credo insieme a questo re di spade, va bene, credo insieme a questo re di spade, si intraprendono qualcosa, di nuovo mi fanno vedere il viaggio, e mi fanno vedere l'intermediario, per motivi di lavoro, io non lo so che vuol dire, qui c'è un collaboratore, un intermediario, un qualcuno, quindi che è fra te, e quest'altra persona, che credo sia sto re di spade, non so se per mettervi d'accordo, per farvi conoscere, per riunirvi, per decidere il da farsi, capito, perché qui c'è anche una riunione, tra più persone, capito, qui si parte, magari semplicemente, tu va alla camera di commercio, a informarti, per aprire un business tuo, non so se mi spiego, capiti che ti voglio dire, ecco, qui poi le vanno un po' interpretate, alla situazione, alla situazione personale, ovviamente, capito, carte molto positive di impresa, per contro posso vedere, qui da queste carte, anche un incontro focoso, un incontro di passione, con un personaggio, tutto di un pezzo, che magari non si lascia andare, a troppe smancerie, ora vediamo anche i segni zodiacali, va bene, non si lascia andare, a troppe smancerie, insomma, però una persona, interessata a te, vediamo, i segni zodiacali, con cui tu ti relazionerai, durante questa settimana, qui c'è il segno del cancro, che è volato subito, vediamo, dal 4 al 10 novembre, per il quarzo rosa e l'ametista, vediamo un po', questo, niente, allora abbiamo detto, il cancro, il capricorno, sagittario, questo, niente, ariete, questo, niente, scorpione, quali segni zodiacali, questo, niente, il toro, la bilancia, il toro che viene subito confermato, scusami gemelli e vege, allora, ricominciamo, ariete, cancro, scorpione, toro, gemelli, vergine, sagittario, capricorno, leone, e leone subito confermato, gemelli vengono confermati, capricorno viene confermato, e allora mi fermo, qui non c'è niente, e aggiungiamo, ah no, confermiamo il sagittario, stop, segni zodiacali, sagittario, leone, capricorno, toro, gemelli, vergine, scorpione, cancro, ariete, questi segni zodiacali escono più in fuori, poi come vi dico sempre, quello che vi deve far fede è la stesa, se non ritrovate segni zodiacali, la stesa vale ugualmente, non vi preoccupate, quindi, incontro di passione, denari che arrivano, viaggio, una nuova impresa, una riunione importante, un intermediario, che farà da ponte, fra te e qualcun altro, non so se per motivi di lavoro, o per altri motivi, una scena, vedo una tavolata di persone, quindi, sicuramente, ti andrai anche da qualche parte, faccio un po' sapere, se vuoi ascoltare il mio consiglio, guardati anche il mazzetto, dell'avventurina verde, perché ti può riguardare, e poi, i segni zodiacali, l'oroscopo dei segni zodiacali, andiamo a vedere anche le sibille, che le ho saltate, andiamo a vedere per te, quarzo rosa e ametista, vediamo che dicono, ok, ti ho parlato del bambino piccolo, eccolo qui, qua il bellino, qui c'è un piccolino, ok, e sweetheart, il bambino e la nonna, guarda, o la madre, per amordidio, io ho visto la nonna e il bambino, e qui il bambino con questa donna, guarda, guarda come va a abbracciare, se no le altre vanno, ragazzi, ma via, cioè, guardale, anche senza guardare i nomi, sapere leggere, cioè, questa donna, guarda come se l'abbraccia, no, vi rendete conto voi, via, su, eh, il gossip, il dono, no, e l'amante, no, via, ascolta, queste sono carte molto, e qui c'è la dama, quindi, magari, semplicemente proprio, qui c'è una donna, e c'è questa coppia, perché c'è sweetheart, il lover, e il bambino, il tre, ok, qui, fammi sapere, queste sono carte molto belle, ci potrebbe essere la nascita proprio di un bambino, magari tu diventi nonna, diventi, che ne so io, nasce a me, c'è il dono, c'è l'arrivo di questo giovanotto, di questo signore, no, quest'uomo, questa donna, che si trovano, si ritrovano, quindi, queste sono carte, sono carte che promettono proprio, proprio, bene, belle, 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 effettivamente abbiamo visto che ci può essere proprio anche un incontro, insomma, d'amore con qualcuno, bene, io ti aspetto nei momenti, fammi sapere, dammi la soddisfazione anche a me di capire, va bene, qualsorosa amicista, facci sapere giù nei commenti, guardati se vuoi l'oroscopo di novembre, che dovrebbe comparirti adesso, e fatti vedere qua, ovviamente, al mio prossimo video, va bene? Ciao!